Dopo il terremoto del 24 agosto scorso si pensa a disegnare nuove politiche sulla sicurezza. Ad essere interessati dal tema e chiamati al confronto sono da un lato le amministrazioni locali e dall'altra i tecnici tutti. E così la Regione Abruzzo questa mattina ha voluto proporre un confronto tra docenti, studenti delle facoltà di architettura e geologia e i rappresentanti istituzionali del territorio. Il Governo è intervenuto con il decreto legge dove per la prima volta si supera la logica del cosiddetto cratere sismico pensando anche agli aspetti prettamente economici del tessuto commerciale dei territori colpiti. C'è tutto quello che consentirà il migliore lavoro possibile. Un lavoro anche salvaguardato e tutelato dalle autorità del rigore come l'ANAC e non solo. Faremo sì che nella puntualità della conoscenza del territorio si ricostruisca esattamente la città, il comune, i paesi esattamente dove si trovavano. Mettendo però in campo una capacità realizzativa che sia poi all'altezza di resistere alle sollecitazioni sismiche. Noi abbiamo affrontato tre temi. Uno, la copertura finanziaria ed è idonea perché ci sono circa 5 miliardi di euro in campo per questa ricostruzione. Due, fare sì che imprese liberi professionisti abbiano capacità di velocità, capacità di celerità e capacità di adeguatezza. Per cui ci sono dei limiti e delle inibizioni a che qualcuno faccia incetta di tutto. Terzo, ci sarà una sola centrale di committenza e di appalto per evitare che questo dia luogo a condotte che nel passato sono state patologiche e illegali. Il governatore D'Alfonso ha poi annunciato il progetto che vede coinvolti gli atenei abruzzesi nei processi relativi alla ricostruzione a capo del commissario Vasco Errani. Una collaborazione finalizzata a garantire la massima qualità tecnica. Noi chiederemo delle terne alle tre università per costituire il Comitato Scientifico Nazionale in linea anche con il concordato con Errani. Poi noi faremo a livello abruzzese sia il Comitato Istituzionale Abruzzese che un Comitato Territoriale riguardanti per esempio i comuni che stanno fuori dell'area omogenea con il principio che dobbiamo fare bene velocemente rispettando le regole.